Il telefono ci spia Affrontano le prime pedalate di giornata anche gli atleti della categoria G5 Ormai ci troviamo davanti ad atleti esperti che si pensa militino da un po' in questa categoria Vedremo se qui prevarrà il tatticismo o se qualcuno tenterà di fare gara a sé e quindi di portare un po' di novità in questo 2019 Ci avviciniamo alla conclusione, siamo alla penultima gara di questo 34esimo trofeo comune di Nuvolera 16esimo Memorial Aldo Pacchetti, terzo Memorial Nonna Paola e 24esimo Memorial Angelo Marelli che è stato messo in cantiere dal gruppo sportivo Nuvolera che come ogni anno apre il calendario stagionale bresciano per quanto riguarda la categoria dei più piccini Gli atleti della categoria G5 dovranno affrontare 10 giri del circuito che misura poco più di un chilometro quindi oltre 10 chilometri di gara per questi atleti Siamo ormai nelle fasi finali con una maglia della Mazzano che entra per prima nella curva finale ma viene poi rimontato dalle maglie rosa nera della Ronco che la fanno alla fine da padrone Vince Giulio Franceschini davanti a Nicola Sreccagni e Alessandro Marzocchi La classifica a quinta posizione per Michele Torri della Valle Camonica quarto Davide Piovanelli della Vedi Ciclismo terzo Alessandro Marzocchi della Mazzano secondo Nicola Sreccagni della Ronco e vincitore il suo compagno di squadra Giulio Franceschini Per quanto riguarda le ragazze terza posizione per Miriam Gonzanini della Freccia Rossa seconda Cristin Balsischini della Mazzano e vincitrice Margherita Putelli della Ronco